Allora, oggi è stata una faticaccia, però devo dire che è stata una bella gara. Sono contento di essere venuto qua in Sardegna, sono affezionato alla Sardegna, c'ero due settimane fa in vacanza e oggi ho deciso di venire qua a fare questa gara. L'accoglienza è stata super e il posto è bellissimo, siamo vicino ad Alghero, il posto è bellissimo ed è stata una faticaccia perché avevo qualche atleta della nuotatori milanesi con cui ho fatto botte lì in mezzo, ma è stato bello, è stato bello, un buon allenamento per me e per loro sicuramente, quindi è stata una bella giornata.